Abbiamo atteso il trasferimento delle risorse da parte della protezione civile, con la quale c'è stata comunque l'interlocuzione. Non sono ancora arrivate queste risorse, ma avevamo fatto capire che c'era un'emergenza, perché ci sono tante di queste famiglie assegnatari della Lugia Ater che non sono nelle condizioni di poter anticipare le risorse e quindi essere poi rimborsate, quindi vanno erogate immediatamente, ce ne faremo carico noi. Abbiamo quantificato sulla base ovviamente delle assegnazioni già effettuate, perché di quelle ragioniamo, sono complessivamente di 178 mila euro, questo è l'importo che gli uffici hanno quantificato. Sulla base delle indicazioni della protezione civile gli interventi sono graduati sulla base della dimensione degli alloggi. Abbiamo già predisposto il modello di domanda che verrà ovviamente pubblicato sul sito per consentire a queste famiglie subito di avere le risorse e di poterle spendere, obstratte di situazioni sociali gravi, famiglie che tra l'altro non possono entrare nelle case assegnate, perché in tante situazioni mancano gli allacci, oltre al costo aglione del trasloco e all'acquisto degli arredi. Contestualmente auspichiamo che Ater risponda all'ultima richiesta che abbiamo effettuato, ci siamo visti ieri con la dottoressa Ceci, per poter procedere al secondo bando su cui siamo pronti. Siamo avanti, stiamo correndo, speriamo che non ci siano intoppi derivanti da fattori esterni al Comune, perché dobbiamo dare una risposta immediata. Per quanto riguarda il termine degli sfollati di lasciare gli alberghi a fine mese, è cambiato qualcosa? Siamo in attesa che la protezione civile dia un tempo definito, certo. Resta il termine del 30 giugno, ovviamente c'è la flessibilità per particolari situazioni, soprattutto per le famiglie che sono in attesa di trasferirsi e coloro che hanno diritto a partecipare anche al secondo bando. Ci sono anche tanti altri comuni, non solo il Comune di Teramo è interessato, penso ad esempio il Comune di Cermignano, che è un comune più piccolo ovviamente, ma che vive una grande difficoltà, mi sono sentito con il Sindaco. È necessario che la protezione civile dia dei tempi definiti.